macro categoria imprese categoria digital il premio è quello di eccellenza dell'anno innovazione and leadership digital marketing andiamo a leggere insieme la motivazione per essere un'eccellenza nell'ambito del digital marketing per la capacità di offrire soluzioni innovative per il mobile entertainment combinando tecnologia creatività e competenza per la lungimiranza e flessibilità con la quale operate e affrontate nuove sfide come dimostra l'espansione sui mercati europei e oltreoceano il premio va a cookies digital e sta salendo sul palco l'accogliamo naturalmente con enorme piacere Valentina Tranquilli COO e co-founder di cookies digital grazie buonasera e questo è tutto per lei e per voi naturalmente grazie la invito a accomodarsi perché naturalmente le chiedo subito un commento a caldo dopo aver in diretta ricevuto questo premio anzitutto sono molto felice premio importante soprattutto riconoscimento per il lavoro che ha fatto tutto il team non vedo l'ora di tornare a Roma poterlo condividere con i colleghi in ufficio e virtualmente anche con i nostri colleghi a Dubai e in Germania insomma un team effettivamente molto molto importante e imponente lo abbiamo letto anche nella motivazione partiamo proprio da qui è grazie anche a questo team che proponete continuamente soluzioni innovative dove la parola innovazione ormai insomma è al centro di tutto il business assolutamente sì noi abbiamo cercato fin dall'inizio di differenziarci dalle solite agenzie digitali puntando soprattutto su due fattori intanto quello di focalizzarci su un verticale specifico quindi noi lavoriamo per la promozione e la monetizzazione esclusivamente di contenuti digitali quindi questo è sicuramente uno degli aspetti più innovativi della nostra azienda e poi siamo orgogliosi di essere un'azienda italiana che adesso ha più del 95% del proprio fatturato all'estero quindi questo vuol dire che in questi anni abbiamo puntato molto all'internazionalizzazione e all'espansione su mercati diversi in particolare negli ultimi anni in Europa, Medio Oriente, Nord Africa sono state le regioni del mondo su cui ci siamo affacciati su cui abbiamo lavorato di più e siamo quindi una società italiana che però con orgoglio si sta affermando in maniera importante all'estero certo insomma portate la vetrina dell'Italia all'estero beh poi il digital marketing insomma ancora più cruciale in questo momento chiaramente voi siete partiti prima perché poi con l'emergenza che abbiamo vissuto tutti quest'anno abbiamo dovuto tutti un po' rincorrere le novità devo dire che infatti noi da un punto di vista puramente diciamo di business non abbiamo sofferto l'emergenza Covid perché essendo la nostra azienda come dicevo prima focalizzata esclusivamente su contenuti digitali e su anche una pubblicità che quindi utilizza esclusivamente il digital quindi canali online web mobile abbiamo risentito poco e niente di questa emergenza questo da un punto di vista puramente di business poi ovviamente da un punto di vista anche umano anche il discorso dello smart working di lavorare esclusivamente da casa è qualcosa che un pochino abbiamo sofferto non tanto per le modalità perché eravamo anche abituati avendo questo business molto flessibile di lavorare anche a distanza però non avere il contatto umano con i clienti anche con i colleghi per così tanto tempo l'abbiamo un po' sofferto assolutamente sì adesso come guardate al futuro ovviamente abbiamo letto continua espansione nei mercati europei e oltreoceano da un punto di vista di business come verranno declinate queste espansioni continue ci vogliamo focalizzare su due direttrici da un lato da un punto di vista geografico approcciare mercati che c'erano sconosciuti prima in particolare gli Stati Uniti e i mercati asiatici quindi ci indirizzeremo verso queste regioni e da un punto di vista più strategico invece di innovazione di prodotto se fino adesso diciamo le nostre competenze erano e sono molto forti sulla parte proprio di pubblicità di acquisizione dei clienti online adesso vogliamo lavorare molto di più sulla produzione di contenuti quindi stiamo lavorando per produrre contenuti in particolare nel mondo degli sports che è un filone che adesso sta crescendo tantissimo e quindi l'obiettivo è lavorare tanto su questo filone ancora più differenziazione diciamo e diversificazione esatto complimenti a questo punto Valentina tranquilli può prendere il suo e come detto prima soprattutto vostro premio e io la ringrazio per averci raccontato un po' di più e complimenti ci vediamo l'anno prossimo su questo palco assolutamente sì molto volentieri ovviamente se riconfermerete tutto quanto proveremo va bene grazie complimenti grazie prego